un nuovo arrivo di oggi parliamo di setare vediamo un po cos'è che ha mandato setare è un'azienda di cosmetici biologici che assiede a firenze dunque una crema anti age 24 ore uno struccante per oggi e vediamo un po in questo pacchetto cosa c'è dunque un contornocci una crema 24 ore rassodante come vediamo tutto a base di acido ialuronico con olio di jojoba e vitamina f un'altra bustina di crema giorno anti age perché ha la pelle secca e una crema giorno anti age per la pelle normale come vi ho detto setare è un'azienda italiana con sede a firenze produce cosmetici biologici ma la cosa più importante da dire è che con il ricavato che ottiene da tutti dalla vendita di tutti i suoi prodotti il 25 per cento viene destinato ad aiutare le scuole italiane quindi si tratta diciamo di un progetto non solo economico ma anche dal valore sociale presto ve ne parlerò nel mio blog quindi potrete vedere tutti i dettagli dei prodotti e anche che cosa ne penso ciao a presto